47. Inaspettato L'entità Isabella, che si manifesta presso il cerchio e seno solo in Abba Comanzia, ci avverte che ci sarà un apporto. Lo strumento non è in trance. È sotto il tavolo, dice subito Isabella. Patrizia e chi scrive si accolgono che qualcosa brilla sotto il tavolo, ai piedi dello strumento. Io mi chino e raccolgo l'oggetto. È il cuoricino della foto. L'apporto è dato a Elio perché lo doni al figlio, che in questi giorni è tornato dall'Australia per sposarsi. Al momento dello scatto, subito dopo la materializzazione, il cuoricino non aveva l'alone che compare nella foto.